Bene ragazzi, ci vediamo in questa forma inusuale perché, come sapete, abbiamo questo problema del contagio e quindi dobbiamo fare la nostra conversazione così a distanza. Adesso a tutti noi questa situazione sembra incredibile, sembra terribilmente difficile, però abbiamo come paese, come nazione, abbiamo passato anche momenti peggiori, molto ma molto peggiori. Pensate a che cosa è stata ad esempio la seconda guerra mondiale, i bombardamenti, i migliaia di morti, di morte violente eccetera, però come sempre succede dopo queste enormi crisi che sembrano senza via d'uscita, insieme ai pocali, dopo arriva la pace, arriva la speranza, poi arriva la ricostruzione e va a finire che i cambiamenti che sono avvenuti a causa proprio dello stimolo di questi disastri renderanno poi la vita migliore di quello che era prima. E così è stato per l'Italia, è stato tante volte per noi e sarà così anche questa volta. Adesso, visto che ho accennato alla guerra, è proprio questo l'argomento della conversazione, cioè la guerra e l'Italia, o meglio l'Italia in guerra, parliamo della seconda guerra mondiale. La lezione scorsa per quelli che c'erano abbiamo visto come la guerra mondiale è scoppiata, come il nazismo ha preso il potere in Germania e come la Germania nazista abbia travolto l'Europa, l'abbia occupata, abbia provocato una guerra con 60 e anche di più milioni di morti, 20 milioni solo in Russia, e l'Italia si è fatta trascinare in questa guerra, trascinandoci in una crisi forse la peggiore che il nostro paese aveva mai vissuto. Come ha potuto l'Italia farsi trascinare in guerra? Poi come ne è uscita, di questo ne parliamo, e che cosa è successo subito dopo? In un'ulteriore conversazione magari parleremo anche della guerra fredda, cioè di quello che è successo in tutto il resto del mondo, fino agli avvenimenti più recenti, le grandi crisi che ci sono state. Però quello che ci interessa oggi è parlare di come l'Italia è stata trascinata all'interno della seconda guerra mondiale. Quali sono stati i passi che ci hanno avvicinato alla guerra? Nei tempi passati, in incontri precedenti, abbiamo parlato del fascismo, di come dopo la prima guerra mondiale in Italia aveva preso il potere questo movimento e come abbia Mussolini creato questa dittatura che ci ha portato in guerra. Però i passi concreti che abbiamo fatto per entrare in guerra, quali sono stati? Un primo passo è stata la guerra d'Etiopia. Nel 1936, quando l'Italia ha occupato l'Etiopia, perché pensava, così era detto ufficialmente, di innanzitutto lavare l'onta del fatto che gli Etiopi ci hanno sconfitto e ci hanno cacciato via quando noi abbiamo cercato la prima volta di occuparli, siamo alla fine dell'Ottocento, con il governo Crispi. E' stato un disastro, c'è fu il famoso disastro di Adua, un intero nostro corpo di spedizione è stato annientato e noi siamo stati l'unico paese, diciamo così, europeo-occidentale ad essere sconfitto da una nazione africana, tra l'altro. Comunque, Mussolini aveva intenzione di riscattare questa onta e contemporaneamente di avere l'occasione di creare quello che lui ha chiamato l'impero. L'impero italiano che dopo millenni tornava a appoggiarsi sui sette fatali colli di Roma e che sarebbe dovuto durare almeno mille anni. Benissimo, l'Etiopia fu occupata dall'Italia nel 1936, però l'Etiopia era un paese che faceva parte della Società delle Nazioni, l'organismo messo in piedi dopo la Prima Guerra Mondiale, messo in piedi proprio perché si potesse, grazie a questo organismo, evitare nuove guerre. L'Etiopia faceva parte di questo organismo, era quindi riconosciuto come la sua indipendenza dalla comunità internazionale e l'Italia fu sottoposta a embargo, quindi nessuno avrebbe potuto comprare o vendere merci con l'Italia, commerciare con noi. Ci venne incontro la Germania di Hitler. La Germania di Hitler che vedeva con favore l'ascesa di Mussolini al governo, anzi Mussolini fu quasi il maestro di Hitler su come si costruisce una dittatura, la Germania di Hitler ci ha aiutato fornendoci le materie prime che l'embargo internazionale ci impediva di acquistare, soprattutto carbone e ferro. Dal Brennero entravano treni e treni di carbone, mentre in Italia passò quella che venne organizzata, quella che venne chiamata l'autarchia, cioè gli italiani dovevano essere assolutamente indipendenti, autonomi nella produzione di ciò che a loro serviva e quindi noi non avremmo avuto più bisogno di acquistare o vendere le nostre merci, perché ce le facevamo da soli e le consumevamo noi. Grazie all'aiuto della Germania quindi questo progetto andò avanti. Questo ebbe come conseguenza che le relazioni tra Italia e Germania si strinsero sempre di più e l'embargo della Società delle Nazioni contro l'Italia ci spinse a creare insieme alla Germania il patto, l'asse, cosa si è chiamato l'asse, Roma-Berlino. Quando voi sentirete parlare riguardo della guerra poi che verrà, la seconda guerra mondiale, delle truppe dell'asse, si parlava proprio delle truppe dell'esercito italiano, dell'esercito tedesco, le truppe dell'asse che si contrapponevano alle truppe degli alleati, cioè gli anglo-americani insieme ai francesi. Ecco, quindi l'asse Roma-Berlino fu un passo molto importante per legare sempre di più l'Italia alla politica estera tedesca che stava, come abbiamo visto la volta scorsa, a marce forzate e indirizzarsi verso la guerra, a portare la Germania alla guerra e quindi l'Italia al suo seguito. In seguito l'Italia ha cominciato anche a scimmiottare la Germania, il militarismo sfrenato, una propaganda guerresca sempre più forte, i destini millenari del nostro paese, l'Italia come guida della civiltà mondiale, cose di questo genere. E tra l'altro, scimmiottando i tedeschi, il regime ha promulgato le cosiddette leggi razziali nel 1938 che ricalcavano un po' le leggi razziali di Nuremberg, le famose leggi razziali tedesche che hanno portato poi la costruzione dei campi di sterminio in Germania e in tutta Europa, quell'Europa occupata dalla Germania, il massacro di 6 milioni di ebrei all'interno di questi campi e tutto l'orrore che ne era seguito. Le leggi razziali del 1938 furono firmate dal re Vittorio Emanuele III e sono una delle peggiori onte di cui il nostro paese si sia mai macchiato, le leggi razziali. Poi, ancora per far vedere che noi eravamo forti e invincibili, abbiamo occupato anche l'Albania, questo del 1939, questo perché l'Albania poteva essere una buona base di lancio per poi occupare i Balcani, questo è stato l'obiettivo dell'Italia. Ecco, un altro passo che ci ha portato verso la guerra è stata la famosa guerra di Spagna, la guerra civile spagnola, perché un generale fascista spagnolo, Francisco Franco, si è ribellato, non ha riconosciuto l'esito delle elezioni che erano state fatte nel 1936 in Spagna, dalle quali emerse come vincitrice i partiti di sinistra che volevano creare in Spagna una repubblica, una repubblica democratica. il generale si ribellò al governo democratico quindi di Madrid e insorse col suo reparto militare, molti militari quindi aderirono a questa insurrezione e l'accompagnare e iniziò in Spagna una fortissima guerra civile. L'Italia, insieme alla Germania, si schierò a favore di Francisco Franco, mentre la Francia, l'Inghilterra, anche gli Stati Uniti d'America e l'Unione Sovietica di Stalin appoggiavano invece i repubblicani, il governo legittimo. Questa cosa per gli spagnoli è stata terribile, ha portato innanzitutto alla vittoria del fascismo e loro l'hanno pagata con un milione di morti, gli spagnoli, e ha poi, pensate, dal 1936 al 1975 a 40 anni di dittatura fascista in Spagna. Ecco, questo fatto che noi ricordiamo anche voi tutti lo conoscete perché avete visto senz'altro in qualche libro la riproduzione del quadro di Picasso di Guernica dove Picasso rappresentò in un modo drammatico il bombardamento che i tedeschi fecero alla città di Bernica sterminandone nella popolazione. Fu il primo vero bombardamento a tappeto, quasi un esperimento di bombardamento a tappeto in una città europea. I morti furono migliaia e migliaia e questo segnò tantissimo la storia dell'Europa e anche segnò anche il, come dire, i rapporti sempre più stretti dell'Italia con la Germania perché intanto gli altri paesi che chiamano i paesi democratici come la Francia e l'Inghilterra e gli Stati Uniti capirono sempre di più che questo aumento delle tensioni in Europa avrebbe portato prima o poi a una guerra. Ecco, a cui poi si sarebbe coinvolta anche l'Unione Sovietica di Stalin. Ora, l'assa Roma-Berlino quindi si è rafforzato sempre di più. Siamo arrivati al punto nel 1939 quando l'Italia dopo questi fatti ha occupato come ho detto l'Albania la Germania occupa di chiara guerra e occupa la Polonia a questo punto la Francia e l'Inghilterra ormai non potevano più voltarsi dall'altra parte come avevano fatto in altre quando è stata l'occupazione dell'Austria l'Anschluss l'Annessione dell'Austria alla Germania quando la Germania ha occupato prima i sudetti e poi tutta la Cecoslovacchia tutte le provocazioni tedesche in Europa a questo punto Francia e Inghilterra hanno capito che non si potevano più tirare indietro dichiarano guerra alla Germania e comincia la seconda guerra mondiale. L'Italia si è trovata in una situazione tremenda perché aveva fatto una politica di grandissima propaganda militarista di alleanza con Hitler di amicizia eccetera però si è trovato erano tutte parole perché mentre la Germania dalla scesa al potere di Hitler aveva fatto una politica di riarmo incredibile si era creato un esercito gigantesco e l'Italia ha tre milioni di baionetti diceva Mussolini ma in realtà senza cannoni senza carri armati senza fucili senza addirittura senza scarpe i nostri alpini senza scarpe pur bisogna andar c'era anche la canzone e l'Italia ha dovuto tirarsi indietro in un primo momento non si poteva dire neutralità come nella prima guerra mondiale che noi per il primo anno siamo stati fuori l'hanno chiamata non belligeranza è più maschio come termine però la sostanza è quella abbiamo predicato la guerra ma non eravamo in grado di farla quindi in un primo momento l'Italia ne resta fuori però poi dopo che la Germania aveva occupato tutta la Francia aveva aggredito Lussemburgo Belgio olanda aveva occupato aggredito e occupato occupato la Danimarca occuperà poi tutta occuperà tutta la Norvegia perché dalla Norvegia si poteva più facilmente mandare i bombardieri contro l'Inghilterra e così via l'Italia si è trovata spiazzata ha detto il mio principale alleato il mio amico vince la guerra da solo e non è possibile disse Mussolini questo l'ha testimoniato nei suoi diari Galeazzo Ciano suo genero che faceva anche da ministro degli esteri del governo fascista disse io ho bisogno di buttare sul piatto delle trattative di pace almeno 2 o 3 mila soldati italiani morti se no non mi devo andare a nascondere e così l'Italia aggredisce la Francia aggredisce la Francia il 10 giugno del 1940 l'Italia aggredisce la Francia una Francia già in ginocchio una Francia che era stata occupata dalla Germania era stata travolta aveva subito distruzioni immense il suo esercito completamente annientato in ginocchio noi alle spalle l'abbiamo aggredita è una cosa che i francesi non dimenticheranno mai e ancora se lo ricordano anche se sono passate ormai altre due generazioni è un'onta un'altra vergogna sul nostro paese comunque le cose sono andate così addirittura ciò che rimaneva delle truppe alpine francesi ha respinto i nostri militari sul fronte nostro occidentale anche questo è una dimostrazione di impreparazione incredibile e comunque abbiamo occupato una porzione del sud della Francia la cosa non è finita lì perché i calcoli di Mussolini sono stati sbagliati la guerra non era non stava per finire anzi era appena agli inizi noi ci siamo lanciati in una impresa mille volte superiore alle nostre capacità le nostre truppe sono state subito colpite dagli inglesi in Etiopia l'impero che doveva essere millenario l'impero italiano che doveva essere millenario dopo l'occupazione dell'Etiopia venne spazzato via dopo soli sei anni Vittorio Emanuele III il nostro re aveva come titolo ufficiale Vittorio Emanuele III re d'Italia re d'Albania dopo l'occupazione dell'Albania e imperatore d'Etiopia girava una battuta in Italia il re era alto un metro e cinquanta un metro e cinquantuno forse e quindi si metteva tutte queste corone in testa per sembrare meno piccolo ma c'era poco da ridere perché gli inglesi non solo ci sbatterono fuori dall'Etiopia ma dopo le prime vittorie diciamo così italiane in Nord Africa noi non vi dimenticate avevamo occupato la Libia quindi partivamo dalla Libia abbiamo attaccato gli inglesi da lì in un primo momento abbiamo vinto perché gli inglesi non se l'aspettavano poi gli inglesi insieme con l'aiuto americano si sono ripresi in Nord Africa e sono stati di nuovo poi cacciati quando i tedeschi hanno fatto sbarcare nel Nord Africa un corpo di spedizione chiamato Africa Corps guidato da un grande generale tedesco che si chiamava Rommel detto la volpe nel deserto per un primo momento Rommel ricacciò indietro insieme le truppe dell'Azze cioè i tedeschi italiani ricacciarono di nuovo indietro gli inglesi che poi ritornarono avanti quando siano arrivati gli americani sconfiggendoci poi definitivamente a El Alamein i nostri soldati sono stati poi insieme ai tedeschi sconfitti lì ecco questa campagna d'Africa durata dal 40 al 42 io non adesso non vi parlo di com'è andata esattamente la guerra perché quello che ci mi interessava farvi capire come ci siamo entrati nella guerra e poi come siamo finiti come è finita la guerra per noi accenno a qualche cosa sempre per reggere la coda Hitler l'Italia mandò un corpo di spedizione in Russia perché nel frattempo nel 41 Hitler aggredì l'Unione Sovietica vi ho detto provocando tutta la guerra è costata 20 milioni di morti ai russi 15 milioni di civili e 5 milioni di militari noi abbiamo mandato un corpo di spedizione di 100.000 uomini che fu tutto distrutto fu cancellato dalla dalla controffensiva russa controffensiva sovietica c'è un bel libro che vi consiglio di leggere e di portare all'esame come libro che potete portare 100.000 gavette di ghiaccio di uno scrittore che ha partecipato alla guerra di Russia si chiamava Bedeschi racconta come noi ci siamo come i nostri soldati si sono comportati bene poveretti con gli scarponi che facevano acqua da tutte le parti congelati eccetera c'è anche un altro bel libro di uno scrittore Mario Rigoni Stern che ha scritto un libro intitolato Il Sergente nella neve trovate su youtube la versione teatrale Il Sergente nella neve è fatto da un bravo attore un monologo di Paolini il quale sulla sette credo lo trovate o sulle teche della sette oppure su youtube lo potete trovare guardare e portare all'esame dire che l'avete visto e racconta proprio della tragedia in mane dei nostri soldati lì sono stati morivano decine di migliaia congelati una cosa spaventosa l'hanno mandato lì con le divisi inadatte gli scarponi inadatti carri armati ridicoli davanti i panzer tedeschi erano delle case degli edifici che si muovevano corazzati e noi avevamo delle scatole di sardine cose pazzesche pazzesche ecco la spedizione di Russia è stata una delle nostre delle nostre imprese fallimentari la guerra come ho detto quindi andava avanti abbiamo dall'Albania abbiamo attaccato la Grecia i greci ci hanno respinti i greci un paese poverissimo misero un paese di contadini e montanari ci hanno respinti Hitler terrorizzato che che la Grecia vincesse e che quindi potesse diventare una base inglese ha dovuto occupare tutti i Balcani ha impiegato più di un milione di uomini perché i Balcani sono tutte montagne abitate da persone combattive persone che non si lasciano dominare facilmente ha dovuto ha dovuto mandare truppe corazzate attraversare tutti i Balcani per occupare la Grecia lo ha fatto e quindi i greci che dopo aver vinto contro gli italiani però sono stati sconfitti dalle truppe dell'asse e questo è stato un'altra di quelle figure che abbiamo fatto durante questa guerra quindi le cose sono andate avanti fino al 43 in questo modo quando poi il 10 di luglio del 43 gli angolo americani partendo dal nord africa che avevano come avevo detto conquistato partendo dal nord africa occupano la sicilia sbarcano in sicilia e occupano e mettono piede nel suolo italiano è stato a questo punto che gli italiani che non si rendevano bene conto di quello che stava succedendo perché non c'erano giornali esteri non si poteva avere nessuna informazione se non dai nostri giornali sottoposti a censura la censura di regime aveva aveva descritto tutte queste cose come delle grandi vittorie delle nostre truppe eroiche che combattevano insieme all'alleato germanico che stava stravincendo la guerra notate bene che nel 43 i tedeschi dopo aver occupato tutta la Russia però subirono la sconfitta di Stalingrado costò a loro un'intera armata di 600.000 uomini e lì hanno cominciato ad arretrare a ripiegare e cominciò da lì la sconfitta della Germania cominciato proprio da Stalingrado a questo è venuta la sconfitta poi come abbiamo detto di El Alamein poi lo sbarco in Normandia sostanzialmente noi ci siamo trovati in mezzo a una situazione di questo genere ma non lo sapevamo non lo sapevamo il popolo italiano non lo sapeva e viene a sapere che gli alleati erano sbarcati in Sicilia Mussolini aveva detto se sbarcheranno in Sicilia li fermeremo sul bagnasciuga disse così mentre questi sono sbarcati abbastanza facilmente hanno occupato tutta la Sicilia il generale Montgomery ha guidato le truppe inglesi mentre il generale Patton anche lui guidava quelle americane hanno in giro di pochissimo tempo hanno occupato tutta la Sicilia e sono sbarcati poi in sono sbarcati poi in Calabria e hanno cominciato a risalire l'Italia nel frattempo erano sbarcati anche ad Anzio nel Lazio e noi ci siamo trovati con gli americani con gli alleati che stavamo sconfiggendo secondo la propaganda ce li siamo trovati in casa non solo i bombardieri alleati per sconfiggereci per convincerci ad arrenderci hanno cominciato a bombardare le nostre città e quindi c'è stato un'altra cosa tremenda noi che eravamo convinti di essere i vincitori per di più al sicuro ci trovavamo i nostri cieli solcati dai bombardieri dalle fortezze volanti americane e inglesi e dai lancaster inglesi che riducevano in macerie le nostre città ci furono i bombardamenti a Roma sono stati tre medici sono delle immagini terribili trovate su google scrivete 1943-45 bombardamenti a Roma bombardamenti a Milano bombardamenti a Torino mio padre mi raccontava lui dormiva era ingegnere della Fiat dormiva a casa quando è cascata una bomba sulla casa è crollato tutto si è salvato per un pelo e così in tutta Italia beh a questo punto a questo punto l'Italia il 25 di luglio l'Italia si sveglia e riceve la notizia per radio che Mussolini era stato destituito ed arrestato perché il 25 di luglio si riunì il gran consiglio del fascismo e i gerarchi fascisti votarono contro Mussolini gli dissero ma ci hai portato a un disastro tutto doveva andare bene eccoci qua lo hanno quindi sfiduciato il re Vittorio Manuele III un unico soprassalto di di realismo se non di dignità perché di dignitoso un personaggio del genere non aveva nulla ha arrestato Mussolini ha dato l'incarico di formare il nuovo governo a Badoglio gli italiani che era un generale gli italiani scesero tutti in strada prima tutti i fascisti dopo il 38 soprattutto a parte quelli che erano dovuti scappare all'estero gli oppositori in galera eccetera però parliamoci chiaro la stragrande maggioranza del popolo italiano appoggiava il regime in quel momento lì sono usciti tutti in piazza è benissimo è caduto eccetera siamo diventati tutti antifascisti da quando ci siamo accorti che era stata tutta una colossale gigantesca bufala se andate a vedere a sentire lo trovate anche questo su google la dichiarazione di guerra che Mussolini ha fatto proprio quando ha dichiarato guerra alla Francia all'Inghilterra sentite le parole che disse viste con l'orecchio di oggi c'è da da morire da ridere se non fossero poi state seguite da una tragedia immane e quindi Mussolini viene arrestato il governo Badoglio che si crea una specie di governo di emergenza una specie di governo di sì proprio di emergenza il quale la prima cosa che ha fatto è chiedere agli alleati un armistizio noi non siamo più in grado di combattere noi non vi consideriamo più i nostri nemici è stato un errore colossale chi ha voluto questa guerra non c'è più ci arrendiamo il lotto gli alleati d'accordo ovviamente ci dicono sì sì va bene non siete nostri amici però non siete più neanche nostri nemici deponete le armi non se ne parla più l'annuncio viene dato ufficialmente l'8 settembre l'8 settembre del 43 è stato una delle date più nere nella storia del nostro paese perché? perché nel momento in cui viene dichiarata l'armistizio quelli che avevano incarichi di potere in Italia scappano scappano tutti verso il sud dove c'erano gli angloamericani il re scappa i gerarchi scappano i comandanti dell'esercito scappano e un intero popolo rimane senza indicazioni senza nessuno che prendesse decisioni i soldati allo sbando senza i loro ufficiali e guardate per descrivere la situazione del genere si può vedere un film con Alberto Sordi intitolato Tutti a casa di Comencini credo lo trovate anche questo in rete guardatelo e pensate che cosa hanno dovuto passare i nostri i nostri nonni i vostri nonni e i miei padri che cosa hanno dovuto passare incredibile inverosimile un paese disfatto in una crisi spaventosa senza governo senza nulla senza forze dell'ordine senza niente bene l'8 settembre però ha voluto significare anche un'altra cosa è iniziata la resistenza è iniziata la resistenza perché molti italiani a questo punto alcuni che facevano parte dell'esercito non avendo più ordine non avendo più niente sono scappati hanno buttato la divisa ma tutti a casa è vero ma molti non sono andati a casa molti sono andati sulle montagne portandosi dietro le armi e hanno cominciato la resistenza armata contro i tedeschi e sono stati fuori e non solo i tedeschi i fascisti che a questo punto si erano schierati contro quell'esercito in favore di quell'esercito tedesco di quell'oppressione tedesca di quel regime tedesco ai quali si erano alleati prima per un mal compreso senso di dignità e di lealtà verso coloro che ci avevano portati in questa situazione ora la resistenza inizia lì con questa vergogna ed è stato un momento di rinascita di riacquisto della dignità perché in questo punto la resistenza i partigiani quelli che hanno preso le armi per combattere contro tutto questo sono stati quelli che hanno salvato l'onore del nostro paese naturalmente all'inizio erano veramente pochi male armati male equipaggiati solo in seguito gli alleati angloamericani paracadutarono aiuti armi vestiti vettovagliamenti cercarono di darci una mano intanto le truppe tedesche che erano qui in Italia come nostre alleate sono diventati i nostri occupanti e dal Brenner entrarono anche divisioni corazzate tedesche che si occuparono l'Italia non più come alleati ma come nemici per opporsi agli angloamericani che stavano avanzando l'Italia quindi divenne un teatro di combattimenti da sud verso nord salivano le armate alleate gli angloamericani con rinforzo di truppe francesi e da nord verso sud scendevano le truppe corazzate tedesche lo scontro fu durissimo l'Italia venne letteralmente piallata da questa guerra siamo stati schiacciati bombardati carri armati da tutte e due le parti che si combattevano tra di loro eserciti di centinaia di migliaia di uomini che combattevano sparando distruggendo calpestando uccidendo distruggendo completamente il nostro paese noi eravamo in mezzo i partigiani combattevano anche alle spalle dell'esercito tedesco fecero un'azione molto utile di disturbo i tedeschi si vendicavano massacrando le popolazioni civili pensate che cosa è successo a Stazena cosa è successo a Boves a Marzabotto cosa è successo con migliaia di civili che si erano magari rifugiati in chiesa uccisi bruciati vivi ogni tedesco che veniva ucciso da un partigiano veniva pagato con 10 italiani fucilati chiunque fossero rastrellati a caso ci fu un attentato contro le truppe tedesche a Roma e la pagammo con le forze ardeatine cioè 30 soldati tedeschi sono morti in quell'attentato e 300 sbagliarono il conto 330 ne misero 30 in più italiani vennero presi infilati in queste fosse e uccisi col colpo alla nuca se volete vedere qualcosa c'è anche un bellissimo film intitolato Rappresaglia nel quale si parla proprio delle forze ardeatine e della rappresaglia che hanno fatto e poi c'è un po' ha suscitato anche una polemica per l'atteggiamento della chiesa in quell'occasione si dice che la chiesa non fosse intervenuta sui tedeschi magari poteva farlo per evitare questa strage io non credo che la chiesa avrebbe potuto fare qualcosa Italia avrebbe potuto cancellare la chiesa dall'Europa con un solo gesto in quel momento lì avevano il potere assoluto e una forza infinita e quindi ancora non so la chiesa poi ha aperto le sue porte conventi chiese parrocchie agli ebrei che scappavano ai partigiani che si nascondevano eccetera quindi io non me la sento pur non essendo un credente non me la sento ad accusare la chiesa in questa occasione quindi come ho detto i nazisti occuparono l'Italia e liberarono Mussolini liberarono con uno scopo lo portarono qui nel nord sul lago di Garda per creare una repubblica una repubblica fascista non più una monarchia il re ormai è stato spazzato via una monarchia una repubblica fascista chiamata repubblica sociale italiana con disprezzo gli antifascisti la chiamavano i repubblichini era una repubblichina quindi i repubblichini però fu una una cosa terribile perché coloro che si arruolarono nella repubblica sociale italiana chiamate le brigate nere le brigate nere si facevano da supporto ai nazisti alle SS alla Gestapo rastrellando gli ebrei rastrellando i partigiani e consegnandoli i tedeschi si fecero complici dei delitti più tremendi erano sostanzialmente dei burattini in mano ai nazisti alle truppe tedesche che occupavano lì l'Italia erano quindi veri e propri traditori del loro paese del nostro paese va bene anche se loro si spacciavano per patrioti per veri italiani eccetera sono dei sono stati dei traditori adesso c'è un tentativo addirittura di recuperare la memoria anche dei brigatisti neri morti in quel periodo le morti non sono tutti uguali i partigiani che morivano morivano per un ideale giusto le brigate nere quelli che morivano lo facevano per un ideale sbagliato i partigiani combattevano per liberare l'Italia le brigate nere per mantenere l'Italia nell'oppressione e nella dittatura c'è una bella differenza per i morti quindi ricordiamo il 25 aprile i morti della resistenza io non ho niente non insulto i morti dall'altra parte ma non li voglio onorare come cercano molti di fare benissimo quindi come avevo detto la la resistenza andò avanti si ricostituirono i partiti antifascisti il partito popolare che poi divenne la democrazia cristiana il partito comunista era stato in clandestinità non si era mai sciolto però poter tornare fuori nel comitato di liberazione nazionale facevano parte appunto come ha detto la democrazia cristiana i comunisti i socialisti i repubblicani anche i liberali addirittura c'erano i monarchici che fecero parte della resistenza mi chiamavano i soldi erano gli azzurri le brigate azzurre beh comunque la resistenza pagò un prezzo altissimo altissimo alla liberazione dell'Italia morirono a migliaia torturati uccisi in combattimento eccetera e comunque come vi ho detto senza di loro l'Italia sarebbe stata una terra di conquista degli alleati dopo che gli alleati hanno sconfitto i nazisti saremo stati una nazione umiliata e sconfitta dagli alleati mentre invece avevamo la nostra dignità perché anche noi abbiamo combattuto contro i nazisti e anche noi quindi poi abbiamo preteso e ottenuto come all'inizio cobelligeranti degli angloamericani degli alleati e poi come divendo siamo stati quelli che hanno ricostruito il paese ecco come è stato possibile poi ricostruire questo paese beh pensate che il capo del partito comunista italiano si chiama Palmiero Togliatti una volta che ormai i nazisti arretravano ormai si vedeva che sarebbero stati sconfitti fece un intervento a Salerno siamo proprio tra il 43 e il 44 adesso la data precisa me lo ricordo in cui disse noi antifascisti anche noi comunisti dobbiamo entrare appoggiare il governo Badoglio perché non ci sono alternative e questo cosa vuol dire questo è un è stato un grandissimo passo in avanti perché i comunisti che erano sempre stati visti come rivoluzionari che volevano fare come in Russia incapaci di qualunque tipo di di alleanza ma solo quelli che avrebbero voluto entrare nell'orbita sovietica cominciarono a proporsi come come un partito che voleva collaborare alla ricostruzione dell'Italia alla ricostruzione anche politica e di fatti questo fecero il partito comunista italiano fu una delle forze portanti della rivoluzione antifascista chiamiamola meglio dire della resistenza antifascista all'interno del CLN la forza più comitato di liberazione nazionale la forza più organizzata e la forza proprio quella del partito comunista italiano i combattenti più duri e più determinati senza nulla togliere comunque tutti gli altri ai democristiani ai liberali ai socialdemocratici eccetera vabbè il Badoglio quindi ha poi concluso la sua la sua funzione ci fu un altro governo governo Bonomi fu chiamato governo Bonomi durante il governo Bonomi ci fu l'abdicazione del re ormai il re Vittorio Emanuele III era diventato un rottame del passato complice della nascita del fascismo complice delle leggi razziali se ne andò suo figlio Umberto II avrebbe dovuto prendere il suo posto difatti lo prese per un mese l'hanno chiamato il re di maggio e niente abbiamo avuto l'abdicazione del re e poi finalmente le truppe angloamericane avanzavano la liberazione di Roma la liberazione di Roma è stata un'impresa sia dei partigiani che delle truppe ovviamente angloamericane potete trovare io vi do un po' una filmografia visto che non si può uscire a comprare i libri in questo periodo ma trovate in rete il film uno dei più bei un manifesto della grande corrente neorealista italiana il film Roma città aperta di Rossellini cercatelo e guardatelo e vedete che cos'è stata l'occupazione nazista di Roma e poi anche c'è un bellissimo film di Liliana Cavani intitolato La Pelle allo stesso titolo del libro La Pelle che scrisse un bravo scrittore Curzio Malaparte che era un fascista però scrisse un bellissimo libro La Pelle in cui parlava delle sofferenze dell'Italia di quel periodo e dell'occupazione angloamericana Liliana Cavani questa brava regista ne ha tratto un film molto bello guardatelo e imparerete molte cose e sempre per fare una bella filmografia neorealista guardate anche La Ciociara La Ciociara di De Sica con una Sofia Loren che lì ha dimostrato di essere una vera grande attrice al titolo del romanzo di Moravia La Ciociara io vi consiglio di leggere il romanzo e di guardare il film se proprio non riuscite a trovare il libro almeno guardate il film perché è un film tra l'altro che ha fatto conoscere a tutto il mondo la filmografia italiana siamo diventati maestri del cinema grazie a questi registi e anche gli americani e il resto del mondo hanno cominciato a vedere l'Italia non più come dei pagliacci come ci avevano descritto sotto il regime fascista ma l'Italia con i suoi problemi e con la sua vitalità e con le sue sofferenze nella Ciociara sono veramente ben descritti ecco andiamo andiamo avanti fino alla dopo la liberazione di Roma c'è stata la linea del fronte da una parte gli angloamericani e dall'altra parte i tedeschi chiamata linea gotica attraversava l'Italia centrale in due io mi sono segnato come descrizione di quel periodo resistenza rappresaglie bombardamenti sofferenze morti ecco questa era l'Italia tra il 43 e il 45 finalmente però tutto questo finisce l'unica cosa bella delle crisi è che prima o poi finiscono finirà anche questa che stiamo vivendo oggi oltretutto siamo senza i bombardamenti abbiamo tanti morti tanti morti ma infinitamente meno di quelli che abbiamo avuto durante la guerra abbiamo questo nemico ma infinitamente meno forte dei bombardamenti delle distruzioni delle nostre città dei nostri ponti delle nostre ferrovie dei nostri ospedali delle nostre scuole tutto distrutto tutto raso al suolo con la gente sotto le macerie che urlava ecco questo noi non ce l'abbiamo supereremo questa difficoltà se abbiamo superato quella che vi ho appena descritto è evidente che nulla ci potrà piegare ecco finalmente arriva la liberazione il 25 aprile il 25 aprile del 1945 la guerra finisce in Italia in Germania la conquista finale sarà verso la metà del mese di maggio quindi durerà ancora qualche settimana però il 25 aprile del 45 lo celebriamo tutti gli anni facciamo delle manifestazioni pubbliche facciamo un giorno feriale facciamo vacanza il 25 aprile del 45 l'Italia è risorta praticamente qualche giorno dopo Mussolini viene acchiappato mentre cerca di scappare in Svizzera viene fucilato e messo in piazzale Loreto questo è stato un episodio molto brutto appeso per i piedi a un distributore di benzina è inqualificabile sto gesto però è stato fatto perché in quel posto lì i fascisti poco tempo prima avevano ammazzato un gruppo di ragazzi che avevano fatto parte della resistenza li avevano fucilati e lasciate i loro cadaveri esposti al sole per un sacco di tempo era la memoria di quella di quell'eccidio è stato era ancora c'è una targa a piazzale Loreto che ricorda sto eccidio era ancora viva la voglia di vendetta era forte possiamo capire perché lo hanno fatto anche però non bisogna appendere per i piedi il cadavere anche del tuo peggior nemico non esiste comunque io non avrei fermato la mano né di chi ha fucilato Mussolini né di chi lo ha appeso per i piedi a piazzale Loreto comunque con la resistenza è stata finita finalmente la guerra civile è finita e diventa diciamo viene affidato l'incarico di formare il governo a governo Parri Parri era un radicale non era né comunista né democristiano era un laico era uno che cercava voleva fare la defascistizzazione dell'Italia cacciare dall'amministrazione tutti quei funzionari che erano stati fascisti era considerato un po' troppo un po' troppo estremista non piaceva i moderati quindi il suo governo è durato poco comunque verrà poi sostituito poco dopo con un governo di unità nazionale guidato dal Cide de Gasperi il Cide de Gasperi era un democristiano un cattolico è importante la sua figura perché ha accompagnato l'Italia del dopoguerra per molti anni ed è ha partecipato quindi alla ricostruzione di questo paese il primo governo de Gasperi era un governo di cosiddetto di unità nazionale c'erano dentro tutti comunisti socialisti socialdemocratici liberali repubblicani c'era il partito d'azione tutti dentro in uno spirito di collaborazione bisogna ricostruire il paese non c'era possibilità di fare tante proteste di fare maggioranza opposizione no bisogna tutti insieme anche con idee spaventosamente diverse pensate alla distanza che c'era tra un liberale di destra e un comunista che era stato filo sovietico fino a poco tempo prima cioè non era neanche pensabile un'alleanza tra di loro invece l'hanno fatta in questo governo di unità nazionale siamo arrivati al 2 giugno del 46 facciamo festa speriamo che non ci sia più il coronavirus potremo di nuovo trovarci tutti assieme in piazza a festeggiare il 2 giugno cioè il giorno in cui tutti gli italiani pensate uomini e donne per la prima volta le donne abbiamo votato hanno votato i nostri vecchi mio papà mia mamma sono andati a votare i vostri nonni e hanno votato per l'assemblea costituente adesso vi vediamo che cos'è ma soprattutto per il referendum si doveva scegliere tra continuare con la monarchia o fare la repubblica vinse la repubblica vinse la repubblica il re se ne è partito se ne è andato in esilio il re Umberto II quel re che era stato re per un solo mese ha preso se ne è andato in esilio a Cascais devo dire da suo nemico suo avversario fossi stato allora se ne è stato suo feroce nemico che si è comportato dignitosamente silenziosamente ha preso e se ne è andato mentre molti di destra gli dicevano di opporsi a questo risultato che era una truffa ci sono stati dei brogli di fare resistenza gli ha detto no il popolo si è espresso me ne vado andò a Cascais in Portogallo in esilio dove morì ecco il 2 giugno 15 ha vinto la Repubblica e poi abbiamo votato nello stesso lezioni con un'altra scheda per la composizione dell'Assemblea Costituente bisognava cioè scrivere la nuova Costituzione noi come Costituzione pensate avevamo ancora lo Statuto Albertino che Carlo Alberto nel 1848 lo avete studiato l'anno scorso concesse prima il Regno di Sardegna cioè il Piemonte il Regno dei Savoia che poi fu esteso dopo l'unità d'Italia a tutta l'Italia ed era ancora in vigore è stato in vigore 100 anni 1848 1948 nel 1946 quindi si riunì questa Assemblea l'Assemblea Costituente quindi faceva le prime leggi che servivano per la ricostruzione del paese e intanto scriveva la nuova Costituzione che entrò in vigore il primo gennaio del 1948 è una Costituzione meravigliosa io vi consiglio in fondo al libro di storia senz'altro lo avete di leggere la prima parte i primi articoli sono un inno all'uguaglianza dei cittadini alla libertà alla democrazia a tutto ciò che di bello ci possa essere in politica dimenticate le sporcizie dimenticate certi esempi assurdi che ci hanno dato i nostri governanti sia nel passato che nel presente ma quando guardate la Costituzione la leggete e lì vi si apre il cuore in rete trovate anche una bella spiegazione di Benigni la Costituzione la più bella del mondo la chiamata lui non ha torto e ce la spiega in modo anche divertente ecco con la Costituzione finalmente l'Italia è diventata una una Repubblica democratica parlamentare con due Camere una Camera e un Senato un Presidente della Repubblica che garantisce l'unità nazionale una Corte Costituzionale tutta una serie di organismi che garantiscono la libertà nel nostro paese ora il governo De Gasperi va avanti De Gasperi fa un viaggio negli Stati Uniti dicendo io so che voi ci considerate con disprezzo io vengo qui sapendo di avere di suscitare il vostro disprezzo e la vostra diffidenza ma io sono qui come amico sono qui in rappresentanza di un paese che è stato sconfitto e che vuole rinascere fa un discorso molto bello agli americani gli americani stavano per avevano progettato e stavano per emanare un provvedimento chiamato Piano Marshall che avrebbe dovuto aiutare un'Europa in macerie su Google potete trovare cercare le fotografie i filmati di che cos'era la Germania dopo la guerra un cumulo di macerie non c'era nient'altro che macerie e l'Italia non era proprio così ma quasi ecco avevamo gli Stati Uniti fecero un calcolo un continente distrutto così diventerà facilmente preda dell'Unione Sovietica un continente alla fame a noi non serve come non possono essere nostri amici persone che che sono pronti a tutto pur di mangiare bisogna dargli una mano e ci dietano una mano bisogna dire non gratis ci hanno dato centinaia in euro di oggi sarebbero migliaia di miliardi per ricostruire i nostri i nostri pesi distrutti l'Italia usufruì del piano massa naturalmente De Gasperi ha dovuto pagare uno scotto gli americani hanno detto sì noi vi diamo gli aiuti voi però mi raccomando fuori i comunisti dal governo perché i comunisti sono la longa manus dell'Unione Sovietica che sì sono stati alleati durante la guerra contro i nazisti ma adesso sono i nostri avversari e De Gasperi così fece tra l'altro cacciò i comunisti dal governo tra l'altro fu anche abbastanza facile perché in Italia si scatenò anche una propaganda anticomunista tremenda bisogna dirlo nelle chiese i parroci di tutte le diocesi si disse chi vota comunista va all'inferno se vengono i comunisti arrivano i russi ad abbeverare i loro cavalli in piazza San Pietro cose che non sono state dette delle cose che a vederle adesso sono terrificanti trovate anche queste cose la propaganda quella propaganda la potete trovare in rete oggi fa ridere guardarla adesso però allora faccia molto effetto il 18 di giugno del 48 ci furono le prime elezioni politiche vere nel senso che c'era una costituzione e adesso eleggiamo un nuovo governo la democrazia cristiana il partito di De Gasperi vinse con il 48% dei voti e cominciò il periodo dei governi centristi dei governi De Gasperi e della ricostruzione del nostro paese la prima fase fu durissima perché quell'Italia distrutta doveva ricominciare da capo e non aveva niente non aveva i ponti le strade le ferrovie non aveva le scuole non aveva gli ospedali non aveva nulla aveva solo una grande fame ci sfamavano gli americani con le scatolette del loro esercito era una cosa terrificante però piano piano ci siamo rimessi in piedi nel giro di pochi anni dal 45 quando è finita la guerra fino a metà degli anni 50 ci fu la ricostruzione la ricostruzione 55 così ricostruzione cioè proprio ricostruire le città le città distrutte bisogna dire che questa cosa ha dato lavoro a tutti lavoravano tutti tutti non c'era disoccupazione in Italia in quel periodo paghe da fame però c'era da lavorare si cominciava a mangiare finalmente non grazie alle scatolette americane ma grazie al frutto del proprio lavoro gli italiani cominciarono a lavorare e lavoravano tutti la ricostruzione fu una cosa tremenda tremenda nel senso che non si era mai visto e sull'onda della ricostruzione e poi dalla metà degli anni 50 fino alla fine degli anni 60 ci fu quello che è stato chiamato il boom economico proprio il boom l'hanno chiamato studiato da economisti come è possibile che un miserabile paese contadino con le pezze nel sedere il più povero d'Europa a parte la Grecia forse l'Albania qualche paese paesello dell'est europeo eravamo i più miserabili un paese del genere è diventata la quinta sesta potenza industriale del mondo com'è possibile il boom economico il miracolo economico è stato chiamato studiato da tutti bisogna dire che anche i tedeschi hanno fatto una cosa e anche i giapponesi i giapponesi hanno avuto addirittura le bombe atomiche su loro paese non abbiamo parlato minimamente però ci sono stati anche i giapponesi che hanno ricostruito il loro paese e ne hanno fatto pensate la seconda potenza economica del mondo dopo gli Stati Uniti oggi non più oggi sono stati superati dalla Cina però sono diventati per decenni la seconda potenza proprio sull'onda della ricostruzione fatta anche loro all'inizio con gli aiuti americani quindi la ricostruzione da noi è stata accompagnata appunto dal miracolo economico e poi da tutta una serie di riforme che il nostro paese ha fatto e che ci hanno reso un paese moderno pensate all'inizio quando ancora governava De Gasperi con una coalizione tutta centrista dei murgistiani liberali eccetera fu fatta una riforma agraria cioè furono espropriate molte terre di latifondisti furono assegnate terre ai contadini poveri fu fatta 750.000 ettari furono distribuiti furono messi a cultura la riforma agraria è stata molto importante perché nel sud Italia i contadini affamati occupavano le terre se cercate occupazione delle terre su google trovate foto e scene incredibili trovate anche film su questo argomento su cosa sono state le guerre contadine le lotte contadine nel sud e la riforma agraria è servita moltissimo per pacificare e per cominciare una se possibile una vita un po' più dignitosa alle quelle che erano chiamate le plebi meridionali che però non dovevano rimanere plebi e quindi si cominciò anche un periodo di industrializzazione del sud fu fondata la Cassa per il Mezzogiorno che doveva convogliare risorse nel Mezzogiorno d'Italia fu fondata l'IRI istituto della ricostruzione industriale che costruì molte imprese imprese meccaniche metallurgiche eccetera in tutta Italia compreso il sud dove nessuno avrebbe mai investito niente la fece lo Stato e così via quando siamo arrivati negli anni 60 inizio anni 60 il governo si spostò a sinistra ci fu il famoso centro-sinistra un governo chiamato governo Fanfani Fanfani era un democristiano che però associò i socialisti al governo fecero le riforme che vi hanno consentito di essere qua ad esempio la scuola media unificata per tutti quando ero bambino fatele elementari qual era la scuola per tutti era finita la scuola dell'obbligo dovevi superare un esame chiamato esame di ammissione chi lo superava faceva una scuola media e poteva continuare gli studi chi non lo superava ed era la strana maggioranza faceva le scuole chiamate di avviamento due o tre anni in cui disegnavano tenere in mano un martello una pialla e andavi a fare l'operaio ecco con la scuola media si istituì la scuola dell'obbligo per tutti fino alla terza media e fu secondo me la più grande riforma che sia mai stata fatta in Italia perché ha cancellato l'analfabetismo in Italia praticamente tutti sappiamo leggere e scrivere e grazie alla scuola media unificata milioni di figli di contadini e di operai analfabeti andare a una scuola io mi ricordo quando ero piccolo che per televisione c'era una trasmissione chiamata non è mai troppo tardi in cui un maestro insegnava alle 5 alle 6 di sera insegnava le lettere dell'alfabeto e c'erano tutte le persone al bar perché mica la televisione in casa ce l'avevano in pochi io ce l'avevo perché mio nonno che era abbastanza ricco distribuì e comprò televisori per tutte le sue figlie tra cui mia mamma e quindi io potevo avere la televisione in casa un enorme mobile con uno schermo piccolo e mi ricordo queste trasmissioni dopo la tv dei ragazzi per noi bambini c'era questo signore maestro Lanzi si chiamava il nome del Gerson non mi ricordo o Manzi insegnava le lettere dell'alfabeto A B C poi insegnava a comporre le parole e c'erano queste persone che dopo il lavoro andavano al bar tenevano le matite in mano con le mani callose scrivevano le lettere dell'alfabeto guardate una cosa penosa era l'Italia di allora però un'Italia che stava risorgendo e mi ricordo nel 61 Italia 61 si celebrava il primo centenario dell'unità mi ricordo io facevo avevo 12 anni facevo le medie mio padre mi portò lì a Torino prima capitale d'Italia e Italia 61 c'era un ottimismo incredibile l'Italia aveva solo davanti a sé un futuro radioso ma non quello che il fascismo prometteva con i fucili e le baionette che tra l'altro non avevamo neppure ma con il lavoro con il riscatto con il lavoro per tutti e la ricchezza per tutti si cominciava ogni famiglia ad avere la moto le persone andavano a lavorare poi la macchina cominciavano i primi weekend si partiva da Milano per andare in Liguria con la 500 la 600 la 850 poi il numero della macchina del modello era la cilindrata ecco quello era Italia 61 mi ricordo l'ottimismo l'ottimismo incredibile mia mamma che diceva al mio papà ma io non ho la patente ma com'è possibile lì c'erano i banchetti per fare alle donne l'esame dei test vedere se erano le donne avere la patente mia mamma l'ha fatto e ha detto a mio padre hai visto io domani mi iscrivo alla scuola guida le donne si iscrivevano alla scuola guida le donne che non potevano neanche uscire di casa sennò con un fazzoletto in testa almeno nelle campagne eccetera ecco era l'Italia del boom del miracolo economico e della ricostruzione nacque l'Enel non c'era più la corrente elettrica che ogni regione aveva i privati che fornivano la corrente elettrica ma ci fu l'ente nazionale dell'energia elettrica si cominciavano a delineare le regioni ci fu comunque una spinta riformista che l'Italia non ha mai più conosciuto dopo di allora ecco io mi fermo qui perché ho fatto un'ora e quattro minuti ragazzi io ho intenzione se volete poi in futuro di fare un altro video nel quale parleremo di cosa è successo nel dopoguerra nel mondo cioè le crisi che ci sono state nel mondo dopo la seconda guerra mondiale che ci hanno portato al mondo di oggi se voi volete cercare di capire ma perché stanno succedendo tutte queste cose in giro per il mondo adesso non ne parliamo più per via dell'epidemia ma fino a poco fa parlavamo di milioni di profughi che scappavano dal Medio Oriente parlavamo di guerre dappertutto ma cosa è successo ma perché per capire come si è arrivati a queste crisi e per poter dare un giudizio perché voi ci fate fare delle idee vostre e parliamone quindi parleremo del dopoguerra della guerra fredda e delle grosse crisi che ci hanno accompagnato fino a pochi anni fa che sono state poi l'origine dei problemi che abbiamo anche oggi io vi saluto state state in gamba seguite le regole che ci stanno dando per evitare che il contagio si diffonda ancora di più per sconfiggerlo pensate che cosa hanno fatto i vostri nonni per ricostruire questo paese distrutto noi i macerie in giro non ne abbiamo perlomeno e vedrete i morti sono molto meno di quelli che sarebbero che sono stati durante la guerra quindi con calma tranquilli mi raccomando studiate preparatevi all'esame di maturità e arrivederci per la prossima puntata che sarà la guerra fredda e le grandi crisi del mondo moderno vi saluto e ciao a tutti io sono Giovanni Ribaldone ricordatevi grazie a tutti